queste belle cose che voi avete fatte presenti Federico ecco niente sono Federico sono molto felice di vedervi numerosi anche oggi purtroppo qualcuno si è andato pensando che probabilmente si è già finita la proiezione invece abbiamo ancora tantissime cose veramente eccezionali è l'inizio, è solo l'inizio che stanno facendo solamente l'inizio avete già visto la proiezione dei ricontri che avete visto il primo GIG tra poco faremo vedere il secondo però prima dovremmo farvi conoscere i nostri ospiti a sorpresa sono ospiti veramente eccezionali cominciamo inizialmente da una grandissima vediamo se riuscite a riconoscere dalla voce chi è Neghini, Neghini, Nazano Colò Neghini, Nazano Colò Anna Teresa, Eugenia Neghini, Neghini, Nazano Colò E' grazie a tutti i nostri ospiti a riconoscere la propria grazie a tutti i nostri ospiti a riconoscere nasa luco ma poco fa mi è stato anche detto che questo personaggio ha dato una persona a studiare tutto il mondo giapponese tutta la storia dell'impero giapponese, tutta la letteratura giapponese e di questo in fondo sono molto felice perché se da un cartone si può anche fare cultura va benissimo quindi avete già riconosciuto la nostra grande ospite di oggi però parlavo di due ospiti e anche per il secondo direi di fare un quiz vediamo se riconoscete un po' le note un attimo qui un attimo qui un attimo qui un attimo qui VINCE TEMPERA! Abbiamo con noi, per esempio, la prima volta in una riunione che faccia gli esibili del VINCE TEMPERA! Questi sono i dischi di un fulvò, eh, che arrivò in picchiata! Bene, sono molto contento di vedervi, di essere qui. Sono vinto dal proprio Federico, dopo trent'anni o quasi. E' una grande soddisfazione avere ancora questa canzone, come tante altre che voi conoscerete, e dei cartoni. C'è ancora, diciamo, sulla festa del VINCE. Io sono qui, ho visto prima le immagini che mi emozionano sempre, perché... Godric è il più bello, il più bravo, il più buono e il più forte. Ed è quello che ha iniziato questa generazione nel settant'anno. Lasci, il governo di Gionicola, il grande maestro... Gommagàmana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.